Alta tensione nella prima serata di aerei a Raiano dove torna l'incubo dei ladri di appartamento. Erano circa le 21.30 quando due uomini a bordo di un Audi A4 Station Wagon avrebbero tentato di colpire in due abitazioni, di cui una collocata in via per prezza. Sarebbe stato un maresciallo dei Carabinieri, residente proprio in quella zona, ad avvicinarsi alla vettura che la ferma in un parcheggio nei pressi di un'attività edile. Alla vista del militare due uomini dell'est Europa si sarebbero dati alla fuga rischiando addirittura di investirlo. A quel punto sarebbe scattato l'inseguimento tra i residenti e i malviventi, il tutto tra le urla disperate del quartiere. Una scena da film con le auto che sfrecciavano lungo il centro abitato. I ladri si sarebbero dileguati mentre i Carabinieri della locale stazione, unitamente vigilante, s'hanno pattugliato le varie zone del paese. L'esasperazione dei residenti deriva dall'escalation del fenomeno che aveva travolto nel senso letterale del termine il centro peligno all'inizio dell'anno.